Musica Mercoledì 24 dicembre San Delfino E' il 358esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 7 alla fine. Il sole sorge alle 7.48, tramonta alle 16.32. La luna si leva alle 9.21, tramonta alle 19.40. Stante il perdurare della pestilenza in maggior consiglio, è sufficiente il voto dei soli 200 nobili rimasti in città. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, i borghi, le vie e le piazze della città di Treviso si riempiono di mercatini artigianali, vintage, gastronomia, musica e tante emozioni. Seguiteci anche su Facebook, il Centro Storico vi aspetta con un mese magico! Gli amici del presepio di Giavera del Montello vi aspettano al Tempio Regina Pacis per visitare il presepio artistico in movimento, con effetti speciali. dal 24 dicembre al 31 gennaio, tutti i giorni, dalle 15.30 alle 19.30. Dal 7 gennaio, giorni feriali, solo su appuntamento. Prosegue al Museo Casa Giorgione di Castelfranco Veneto la mostra di opere di Paolo Veronese, Villa Soranzo, una storia dimenticata nell'ambito dell'iniziativa Veronese nelle terre del Giorgione. Le previsioni per domani. Cielo sereno o poco nuvoloso in montagna. In pianura ancora foschie e nebbie o nubi basse al mattino. Possibile qualche fiocco di neve sui rilevi e qualche locale pioggia in pianura, dal pomeriggio sera. Temperature in cala in montagna, anche marcato in quota. Grazie a tutti.